È un 42enne che vive in un comune limitrofo ad Asolo, l'ultimo in ordine di tempo, ecovandalo individuato dai carabinieri forestale grazie alla segnalazione di un residente che aveva notato dei sacchi dell'immondizia abbandonati lungo via Piovega. Dopo una curata ispezione dei rifiuti è stato possibile risalire alla responsabile per il quale è scattata una sanzione amministrativa di 600 euro. Sono altri 11 gli ecofurbi individuati ad Asolo grazie alle segnalazioni dei cittadini. Alcune delle persone sorprese ad abbandonare immondizie nel territorio asolano risultano essere residenti in comuni limitrofi. Questi ecofurbetti, afferma il sindaco Mauro Migliorini, devono sapere che non la passano liscia se tentano di scaricare la loro inciviltà sul nostro territorio. Grazie ai controlli degli agenti, alle videocamere e ai ritrovamenti dei cittadini siamo in grado di scoprire dove vengono lasciati i sacchetti e poi troviamo il modo di risalire al colpevole e sanzionarlo. Vogliamo ringraziare i cittadini, continua il sindaco, che segnalano l'abbandono dei rifiuti lungo fossi, sentieri e strade del nostro comune. Queste iniziative sono l'esempio di quel senso civico e di comunità, nonché di appartenenza che sappiamo ritrovare in paese, un paese recentemente e nuovamente certificato come comune riciclone, passando da una percentuale di raccolta differenziata del 85% del 2014 all'86,7% di quel